ciao ciao buonasera buonasera prego che volete sapere no e tu volevi dire qualcosa che ti posso dire non hai niente da dire questo fatto te l'ho detto a parmigiani c'è una ripetizione di quello che fa la parmigiana me ne dè un po che altro peperone melanzano pure questo l'abbiamo già detto pure te l'ho detto o no? sì ve l'ho detto? oh so crattato un po? che altro taggiremo? allora che facciamo un video senza dire niente la frittata di zucchine come si fa la frittata di zucchine che altro abbiamo detto pasta e patate pasta e patate, pasta e fagioli, riso e fagioli invece della pasta si butta il riso nei fagioli va bene? eh non è una ricetta questa questa la so fare pure l'ultima sciacquetta non so fare ma di quanto apprendere? eh mo siamo in diretta non possiamo andare a prendere la ricetta eh maggiore cosa piacciono affrittata di zucchine quaresima quaresima che si mangia? i peperoni i peperoni arrostiti con limone? mi sa che oggi abbiamo toppato mi sa che abbiamo toppato oggi perché è un collegamento che non è andato a buon fine questo collegamento eh perché non me ne ricordo non te ne ricordi eh vabbè allora salutiamo la ricetta del non ricordo la smemorata la ricetta della smemorata della smemora va bene ma la studio un'altra e te la dico va bene? eh vabbè va bene? vabbè vabbè ok 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 finisci te bere un cos'è che mangia bene? che cos'è che mi devo bere il? il succo di carote il succo di carota ma non so vabbè salutiamo arrivederci ciao ciao arrivederci se no dici qualche altra cosa fuori luogo è meglio chiudere vabbè me la devo studiare qualche altra oggi non te lo metti il voto sono classificata le tengo diverse scritte non classificate studia studia un po' che poi ci vediamo domani allora ok ciao ciao va bene ciao 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 ciao